L'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Pistoia lancia un grido di allarme ed esprime forti preoccupazioni per gli effetti nocivi sulla salute della popolazione e dell'inceneritore di Montale. Un allarme che l'Ordine dei Medici lancia con un appello pubblico in una lettera ai propri iscritti e ai sindaci di Agliana, Quarrata e Montale. Tra gli elementi di preoccupazione lo sforamento di ossine per 45 giorni l'estate scorsa, reso pubblico ai primi di settembre senza fermare prima l'impianto, la possibilità di incenerire fino a 220 tonnellate al giorno di rifiuti, la qualità dell'aria alla centralina di Montale che per emissioni di PM2.5 correlabili all'inceneritore supera attualmente il limite massimo. Nonché l'indagine epidemiologica per la quale non ci sono date certe per i risultati che non potranno essere significativi, secondo l'Ordine dei Medici, per gli esigui gruppi a confronto riferiti a due sole patologie. La lettera è stata pubblicata sul sito web dell'Ordine ed è stata letta dal dottor Ferdinando Santini, medico aglianese e tesoriere del Consiglio dell'Ordine dei Medici Pistoiesi, durante un incontro pubblico organizzato ad Agliana dal neocostituito Comitato Proteggiamo il Futuro.